Aspetta di KG, KG fra Noi siamo il KG, di King DG, di King DG Lo aspetto da una vita, voce demolita Davvero pensavi perdessi del tempo in saletta con carta e matita L'odio viscerale, viscerale La passione non si può imparare Non insegni al mio naso a respirare Respirare Another show Questo è KG Studio stile Noi! 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 Da dessonneur you need! Autore dei sottotitoli e revisione a cura di QTSS Grazie a tutti